L'obiettivo è Roma, però si parte dalla Toscana. Si parte dalla Toscana. L'anno scorso 15.000 tesserati hanno preso parte a questa manifestazione. Quest'anno i numeri saranno battuti, c'è il mondo TPRA che è entrato in questa manifestazione, i numeri si accresceranno, si parte da Firenze, i tabelloni di quarta, terza e TPRA sono stati molto affollati, altrettanto lo è la fase finale qui a Mecepo, quindi c'è grande soddisfazione e un grande ringraziamento per le attività che hanno svolto anche in Regione.